ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina dopo aver preparato la crema di caffè shakerato vi metto sotto il link in descrizione ho deciso di preparare una crema di caffè all'acqua esattamente all'acqua ci serviranno solamente pochissimi ingredienti andiamo a vedere quali sono gli ingredienti che ci serviranno sono 150 g di zucchero a vero una bustina di vanillina 25 g di caffè solubile e 80 g di acqua ghiacciata dentro una ciotola metto l'acqua il caffè e la bustina di vanillina sbatto il tutto con un frullatore e e e e e e con una spatola prendiamo tutto quello che c'è nei laterali e adesso dobbiamo aggiungere lo zucchero a velo poco alla volta come potete notare è bello cremoso spumoso solo con acqua caffè e bustina di vanillina dopo aver sbattuto tutto la nostra crema con lo zucchero l'acqua e il caffè ecco il risultato adesso vado a servire dentro un bel bicchiere e un bel bicchiere un bel bicchiere un bel bicchiere un bel bicchiere e la crema di caffè all'acqua è pronta naturalmente voi se la volete più dolce potete aggiungere un altro po' di zucchero a velo e un po' di acqua in più bella cremosa adatta per chi è intollerante al lattosio se questo video vi è piaciuto lasciate un bel like iscrivetevi al mio canale condividete inoltre vi ricordo che se toccate la campanellina sotto a destra potete rimanere aggiornati su tutte le ricette che andrò a fare durante la settimana un bacione grande e alla prossima video ricetta ciao 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 ciao